Troviamo qui all'Aquila, io non sono aquilano però sono stato accolto splendidamente dalla comunità aquilana attraverso il mio lavoro per cui ogni mese racconto una storia di una città diversa d'Italia mi sono ritrovato qui in questa splendida città e ho pensato coinvolgendo poi i ragazzi aquilani di mettere in piedi un festival, un festival di video che raccontano la città. Ho proposto l'idea all'amministrazione comunale, al sindaco in particolare che è stato veramente sul pezzo accoglierne l'opportunità per poi ragazzi di fuori che sono appassionati di questo e quindi l'11 novembre metteremo in piedi appunto questo festival. Ci siamo sentiti per telefono, poi ho visto un pezzo dei suoi video, mi piace questa capacità di raccontare le città in presa diretta, di raccontarle soprattutto ai giovani perché qualcuno può immaginare che l'Aquila sia una città o ancora distrutta o una città per vecchi, essendo un luogo in mezzo alle montagne invece l'Aquila è una città vivace dove ci sono tanti giovani, tanti ragazzi, tanti giovani che vengono da fuori che qui studiano, si formano, si professionalizzano, vengono a lavorare. L'Aquila è una città di grandi opportunità per i giovani e quindi la possibilità di narrarla da questo punto di vista giovane mi piace e mi incuriosisce anche. Bene, ci saranno alcuni tra gli ospiti che sono i content creator principali in questo momento che vanno in voga tra cui Luis Sal, Klaus, Giovanni Fois, Progetto Happiness e tantissimi altri e aver coinvolto questi amici e quindi porteranno sicuramente una bella affluenza da parte anche delle città adiacenti ma perché no, anche Roma e dintorni. Quindi ci auspicchiamo una bella affluenza sia nelle ore precedenti che successive che al di là del festival che è un pretesto per portare persone, è un momento di festa per portare tanta nuova gente qui in città. L'evento si comporrà con questa giuria di 15 content creator molto famosi che giudicheranno dei video realizzati da ragazzi aquilani che raccontano la città. Quindi avremo la proiezione di questi 10 bellissimi video che racconteranno la città in maniera pop, in maniera appunto dinamica eccetera e il vincitore diventerà lo spot della città dell'Aquila delle nuove generazioni.